Ciao e benvenuto in Camperies! Nel video di oggi vediamo un furgonato omologato per 4 persone, il Vinesberg Carabus 601MQ Edition Fire. Questo modello è alto 2,58 metri, largo 2,05 metri e lungo 5,99 metri. Questo è un camper adatto a te se cerchi un veicolo compatto ma allo stesso tempo confortevole con tutte le comodità e con tanto spazio per portare con te tutto ciò che più desideri. Vediamo le principali caratteristiche di questo veicolo, dinette in grado di ospitare fino a 4 persone, cucina lineare con frigo da 90 litri, bagno fisso compatto, letto trasversale in coda e un letto singolo in dinette e un bagagliaio ampliabile grazie al letto posteriore scomponibile. Prima di continuare con una descrizione più dettagliata non dimenticarti di cliccare mi piace alla nostra pagina Facebook, iscriverti al nostro canale YouTube e seguirci su Instagram per rimanere aggiornato con tutte le ultime novità del mondo camperis. Nella zona giorno di questo furgonato trova spazio una dinette con i due sedili anteriori girevoli che consentono anche a 4 persone di sedere comodamente. Il tavolo presenta una prolunga ruotabile sotto la superficie che permette di avere una maggiore aria di appoggio. È possibile rimuovere il tavolo per aumentare la vivibilità della zona giorno. Per lo stivaggio puoi trovare alcuni pensili sopra la dinette ed una cassa panca con apertura laterale utilizzabile interamente. È possibile abbassare il tavolo per ottenere un terzo posto letto in dinette. La cucina è lineare e si trova in corrispondenza della porta di uscita. È composta da due fuochi, un lavandino, una superficie aggiuntiva per avere maggiore area di lavoro, pensili e molti cassetti per le stoviglie. Di fianco ai fornelli puoi trovare un frigorifero a compressore da 90 litri con uno scomparto freezer. Il vice e la doccia sono collocati in un unico vano a comporre un bagno fisso compatto, dotato di finestra e quindi luminoso e areggiato. Il rubinetto multifunzionale può essere estratto per fare la doccia e tutto lo spazio diventa una cabina doccia. La tenda rimane distante dal corpo grazie alla camera d'aria ad anello integrata. Nella parte posteriore puoi trovare un ampio letto matrimoniale trasversale per due persone. Per lo stivaggio sono presenti alcuni pensili sopra il letto e un ulteriore vano sotto al frigo. Nella zona posteriore trova spazio un ampio vano di stivaggio, il quale può essere ampliato grazie alla possibilità di eliminare la parte centrale del letto. Questo meccanismo ti consente di caricare anche attrezzature più ingombranti, come per esempio le vostre biciclette, oppure attrezzature più lunghe, grazie alla possibilità di rimuovere anche il divisore alla base del letto. Nel vano posteriore sono poi presenti anelli di ancoraggio a pavimento. Weinsberg, con questa serie di furgonati, propone una gamma completa di prodotti contraddistinti dalla tipica qualità costruttiva tedesca e da una ricca lista di dotazioni, unite a prezzi di listino davvero competitivi. Questo veicolo colpisce soprattutto per le sue dimensioni compatte, che forniscono una stradalità superiore, ma anche per lo spazio di stivaggio senza uguali, data la sua lunghezza inferiore ai 6 metri, grazie ad un razionale utilizzo degli spazi interni. Il Carabus spicca anche per l'estrema versatilità. Automobile spaziose dotata di tutti i comfort e sistemi di sicurezza più avanzati quando è ora di viaggiare, camper completo in sosta grazie a dotazioni impiantistiche di pregio assoluto e a una distribuzione degli spazi ergonomica ed efficace. Gli ambienti interni sono accoglienti grazie ai piacevoli rivestimenti in tessuto delle pareti laterali, con l'assenza quasi totale di lami erati a vista. L'allestimento è di elevato livello, con mobilio essenziale curato e tapezzerie Edition Fire che rendono l'ambiente moderno e gradevole. Questo veicolo di certo non passa inosservato, data la sua grafica esterna personalizzata che richiama per l'appunto i colori caldi del fuoco. Le serigrafie esterne Edition Fire forniscono al veicolo un aspetto moderno e dinamico. Il veicolo è coibentato internamente anche per l'uso invernale e dispone di una stufatruma con B4. La coibentazione di tette pareti è in schiuma di polietilene, priva di ponti termici. Il pianale del pavimento è invece coibentato in styrodur, con rivestimento in PVC. Forse l'unico difetto di questo veicolo potrebbe essere l'assenza di un ulteriore posto letto per consentire anche al quarto passeggero previsto dall'omologazione di dormire sul veicolo. Sì, sicuramente ti consiglio questo veicolo se ami furgonati e vuoi avere un veicolo comodo, confortevole e di alta qualità, senza dover optare per un camper più ingombrante. Questo veicolo offre tanto altro ancora. Per visionare la scheda completa e per conoscere tutti gli accessori e tutte le caratteristiche tecniche, clicca sul link che trovi nel post di Facebook oppure nell'info box di questo video su YouTube. Se desideri sapere quali sono gli altri modelli disponibili sui nostri piazzali, visita il sito www.camperis.it oppure per vedere, toccare e provare prima persona i nostri veicoli, vieni nelle nostre siti camperis dove sarai assistito da specialisti sempre pronti a consigliarti il veicolo più adatto a te. Ti aspettiamo!